Oggi, questa sera, qui nell'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale, si conclude l'iter amministrativo avviato il 31 ottobre scorso in un Consiglio Comunale a Saluta Pubblica di conferimento della cittadinanza onoraria a Michele Albanese. Evidentemente questa sera, dico, si conclude perché c'è proprio il conferimento, quindi da oggi Michele Albanese è cittadino di Sant'Arsegno, questo ci fa onore. Che cittadino? Michele ha un rapporto affettivo con il nostro territorio, con Sant'Arsegno in particolare, ha frequentato questo istituto, ha frequentato Sant'Arsegno anche per altre motivazioni sia familiari che professionali e quindi è attaccato al nostro territorio, ma non solo Sant'Arsegno, l'intero Vallo di Diano. Lo dimostra ogni giorno, lui è al vertice di un prestigioso istituto bancario che è la Banca Montepruno, oggi realtà importante non solo qui nel Vallo di Diano, ma credo in tutta la regione Campania e forse anche sul territorio nazionale. E ogni giorno è attento e vicino a tutte le attività che non solo le amministrazioni comunali come Sant'Arsegno e altri portano a termine, ma soprattutto delle associazioni e anche dei privati. Quindi è una persona che ascolta, elabora e cerca di risolvere il problema. È una serata particolare, non è una serata come tante altre, di fatti sono molto, molto emozionato, ma soprattutto perché stasera mi sento di giocare in casa, mi sento di giocare in quella casa in cui veramente io forse ho sognato di starci. E finalmente stasera ci sono, ma poi la cosa bella è incontrare tutti questi amici che mi testimoniano non solo l'affetto, ma soprattutto veramente la vicinanza. Debo dire grazie all'amministrazione comunale, debbo dire grazie ai numerosi amici che condividono con me momenti belli, momenti anche di difficoltà, perché nella vita spesso si ci trova anche difficoltà. Si ha bisogno di un amico su cui poggiare la propria testa per potersi fidare e dire le proprie difficoltà. Bene, io molti di questi amici li ho avuti e li ho ancora a Sant'Arsenio. Debo ringraziare la mia squadra, la squadra della Montecruno che mi permette oggi di ricevere questa onoreficenza. Onoreficenza che mi permetto di dividere con loro, dividere con loro perché veramente lo sento. Sono tutti qua presenti stasera a testimonare ciò. Se abbiamo raggiunto come banca questi risultati e questi risultati poi hanno permesso di riconoscermi questa riconoscenza onoraria, questa cittadinanza onoraria, e beh, un poco, anzi molto, è merito anche loro. Quindi io sono particolarmente felice. Un grazie all'amministrazione comunale, un grazie all'onorevole Pica che dall'inizio ha voluto che io fossi presente a Sant'Arsenio. Già 15 anni fa, quando nessuno avrebbe scommesso un euro, allora c'era la lira sulla nostra banca e su me stesso, beh, lui l'ha fatto. Ha vinto lui, credo, nel mio piccolo e io stesso credo di essere veramente soddisfatto, ma lo sono col cuore.